Nel video di oggi vi parlo di questo sistema di intrattenimento per la nostra vettura, il Carpuride 103 Pro, subito dopo la sigla. Amici, ben ritrovati qui come sempre sul mio canale YouTube. Oggi vi parlo di un nuovo sistema di intrattenimento per la nostra vettura, il Carpuride 103 Pro. Si tratta di un sistema diverso un po' dal solito perché non è concepito per essere un sistema Android sul quale installare il Play Store, i servizi Google, Netflix e quant'altro, bensì un sistema prevalentemente di navigazione che ha nel suo punto di forza il funzionamento anche senza fili con Carplay ed Android Auto, ma dopo lo andremo a vedere nel dettaglio. Ringrazio Carpuride per avermelo inviato, dato la possibilità di testare per voi. È comunque un sistema abbastanza completo, tra l'altro non richiede che sia collocato all'interno della plancia, bensì su di essa. Infatti ha una ventosa, ha un fermo, volendo, adesivo proprio per mantenerlo stabile sulla nostra plancia appunto. È un sistema comodo da montare perché non richiede neanche cablaggio particolare, ma semplicemente l'attacco alla presa accendisigari, quindi nel 99% dei casi si attiverà, si spegnerà automaticamente con la nostra vettura. Dico 99% perché ci sono anche diverse vetture che hanno la presa accendisigari già alimentata, quindi state attenti anche a questo nel caso vi trovaste in una di queste condizioni, ma comunque sia c'è il pulsante di accensione e di spegnimento. Lo vedremo a breve. Allora non mi dilungo in questa parte, passeremo ad un unboxing del prodotto con qualche specifica tecnica per poi farvelo vedere acceso, farvi vedere tutte quante le sue funzionalità. Carpuride 103 Pro. Abbiamo la sua confezione di vendita che a mio avviso è davvero brutta, impresentabile, anche di scarsa qualità. Qui abbiamo subito l'immagine del display che ci fa vedere la forma. Invece qui abbiamo i servizi disponibili messi in evidenza come CarPlay, come Android Auto, il protocollo AirPlay per la trasmissione dello schermo tramite AirPlay sul display della nostra autoradio, chiamiamola così perché non è proprio corretto, e poi Autolink per la connessione con cavo. Abbiamo alcune piccole specifiche indicate, display HD e un IPS, Bluetooth USB, possibilità di microSD dove caricare audio e video. Abbiamo anche i controlli vocali che ci permettono di comandare il dispositivo hands-free, cioè tenendo sempre le mani sul volante e senza dover andare in continuazione a cliccare sul touchscreen. E poi abbiamo una porta di ricarica USB, quindi per caricare i nostri smartphone e tablet. Vado a metterlo un attimo così lateralmente, proprio per mostrarvi alcune specifiche, qualcosa già abbiamo visto, ma qualcosa più di dettagliato. Phone Link, proprio per andare a connettere i nostri smartphone e tablet. FM, trasmettitore, cosa si intende? Un po' come l'ultimo dispositivo visto qui sul canale, cioè non è una radio FM stand alone, ma sarete, tra virgolette, costretti a sintonizzarla in frequenza o tramite cavo AUX oppure in onde FM con la radio stock della vostra vettura. Display lo abbiamo visto, microSD disponibile, ecco retrocamera, potrete andare a collegare sulle porte anche USB, una retrocamera per poter appunto andare a tenere d'occhio quello che succede, soprattutto quando siete in retromarcia. E ovviamente è disponibile l'opzione che quando inserirete la retromarcia, ecco, si attiverà automaticamente la camera. Ovviamente io non ho in dotazione la camera, ma qualora l'acquistaste, ecco, funziona così, controlli vocali, porta AUX e USB, l'abbiamo visto. Andiamo ora ad aprire finalmente il pacco, vediamo cosa c'è al suo interno e come si presenta. Subito la nostra autoradio, la metto momentaneamente da parte, vado a togliere tutto il resto e vediamo l'accessoristica contenuta all'interno della confezione, insomma un po' sparsa così. Abbiamo il fermo per la plancia, vale a dire che oltre a sfruttare una ventuosa, potremo andare ad utilizzare questo con la sua parte adesiva e andarla a mettere proprio sulla plancia della nostra vettura, sfruttarla in maniera a mio avviso più stabile. Abbiamo in dotazione il cavo AUX, quindi con jack da 3,5 mm, porta di ricarica, quindi va nell'accendisigari, si aggancia ovviamente alla nostra autoradio e permette di farla funzionare. Abbiamo un'ulteriore staffa di fissaggio e poi abbiamo invece il supporto a ventosa, lo vedete, si può mettere sia sulla plancia ma anche al vetro in questa modalità e qui c'è l'aggancio proprio che va dietro il nostro display, ovviamente piccolo manualetto di utilizzo che a mio avviso è praticamente inutile. Allora vado a togliervi un attimo, l'autoradio, ve la faccio vedere, display, guardate, comunque sia, si presenta molto bene le premesse, quelle della confezione non erano il top, ma il dispositivo sembra fatto davvero molto molto bene. Abbiamo anche una pellicola qui sopra che può essere staccata, vi ricordo ragazzi che poi lo metterò in vendita a prezzo ribassato, quindi tenete d'occhio sempre i miei profili così da vedere l'annuncio. Vado nella parte posteriore, ecco qui, gancio centrale per poter andare a fissare appunto il supporto. Abbiamo un piccolo speaker, a mio avviso indecente, ma poi andremo a collegare il tutto sul bluetooth della nostra vettura. Lateralmente, non so se si vede bene, abbiamo appunto il jack per il microfono, qualora voleste utilizzare uno esterno e non quello integrato. Abbiamo lo slot per la micro sd, cam in e audio out, cam in ovviamente è per la dash cam, potrete andarla a collegare proprio qui, audio out, qualora aveste delle casse che volete collegare proprio con il cavo jack e non in bluetooth, la porta usb proprio per la pendrive dove inserire audio e video e poi abbiamo la porta, anche se non si vede bene, la fotocamera non riesce a mettere a fuoco per via del bordo, insomma la porta per alimentare il tutto. Dall'altro lato invece non abbiamo assolutamente niente, sotto e sopra altrettanto niente se non il vero e proprio tasto di accensione e di spegnimento, anche molto comodo da premere quando ecco la nostra autoradio si trova in questa posizione sulla plancia, ci basterà andare a premere il tastino per poterla accendere. Detto questo ragazzi andiamola a montare un attimo e poi vediamo quelle che sono tutte quante le sue funzioni. E dopo questa parte di unboxing passiamo un attimo a vedere il sistema acceso collegato, ma prima vi dico che trovate il link qui sotto in descrizione per poterlo acquistare, quindi magari date uno sguardo, mi tolgo subito dall'imbarazzo, il prezzo di vendita si aggira intorno ai 310 dollari, comunque sia è un sistema abbastanza completo. Tra l'altro è acquistabile sul sito di Carpuraid anche con una retrocamera perché è possibile attaccarla via USB. Ovviamente e come sempre lo trovate anche sul mio canale Telegram delle offerte, così da avere anche qualche codice sconto. Tenetelo sempre d'occhio, Jutec su Telegram. Va bene, procediamo. Ho collegato l'alimentazione e lui si è subito acceso, ho davvero fulminio, pochi secondi e subito è pronto all'interazione. Andiamo a vedere un attimo come è formata la schermata Home che poi è l'unica schermata presente, anche se vedete posso spostarmi con il dito e sicuramente sarà possibile installare altre applicazioni. Comunque schermata rivisa in due parti, non simmetrica perché qui sul lato sinistro avremo tutte quante le informazioni inerenti all'orologio, abbiamo anche il tasto Home, Info, Volume, più e meno, tutto quanto Touch, schermo IPS e poi il regolatore della luminosità. Vi faccio vedere, se vado a premere esce così l'animazione. Posso andare ad interagire in questa maniera e impostare anche la luminosità automatica. Qui in alto abbiamo questo tastino che va a cambiare lo sfondo, poi abbiamo l'equalizzatore, tra l'altro vi dico che lui ha anche uno speaker interno, di conseguenza può anche riprodurre musica automaticamente senza appoggiarsi sul Bluetooth della vettura. Magari dopo faremo una prova e testeremo anche l'audio interno, anche se la maggior parte di noi, suppongo, non lo utilizzerà in questa maniera. Poi abbiamo il tastino per il Bluetooth, se lo ha da premere mi dice non pronto, perché? Perché lui è collegato automaticamente Wi-Fi al mio smartphone per l'utilizzo con CarPlay. Infatti se vado a premere il tastino in alto di CarPlay, guardate subito si è avviato. Classica schermata ovviamente di CarPlay, posso andare anche alla Home. Su questo non cambia nulla bene o male, la conoscete un po' tutti quanti. Unica cosa che qui non compaiono più i tasti per tornare alla Home, i tasti del volume, quindi questo significa che o li regolate tramite smartphone, tramite i pulsanti dello smartphone, oppure uscite come attraverso questo tastino, tornate alla schermata Home e poi effettuate le regolazioni per poi ritornarci dentro. Questa a mio avviso è una piccola pecca del dispositivo. Comunque vedete qui iPlay, che non è nient'altro che l'app per far funzionare su questi dispositivi, ma non solo su di lui, anche su tutti quanti gli altri che ho testato, insomma per far funzionare CarPlay. Qui abbiamo Android Auto, AirPlay, ovviamente per la trasmissione delle immagini in wifi dal mio smartphone, dallo smartphone fino al display del dispositivo. Autolink, qualora volessimo effettuare il mirroring con cavo. Audio output, lo vado ad aprire e vi faccio vedere, posso andare a scegliere le diverse modalità di utilizzo. La prima è la modalità altoparlante, quindi vedete il suono viene riprodotto dall'altoparlante della macchina. Qualora per esempio avessi sulla mia pennetta della musica, mi recherò in questa modalità e andrò a farlo funzionare. iPlay Auto, qui per andare a effettuare la connessione con CarPlay ed Android Auto. FM Trans, vedete questa è la radio vera e propria, che come vi accennavo funziona su sintonizzazione di frequenza, vale a dire che dovrete comunque avere lo stereo interno alla vostra vettura e tramite FM o tramite cavo AUX andarla a sintonizzare. Qui abbiamo il trasferimento Bluetooth e qui possiamo proprio andare ad associare il dispositivo Bluetooth esterno e poi abbiamo l'AUX OUT che si va a collegare appunto all'AUX dell'autoradio e può produrre musica sull'altoparlante qualora non volessimo collegarli via Bluetooth eccetera. Questo poi dipende dalla nostra vettura. Torniamo un attimo alla home, abbiamo il telefono, ecco qui si presenta in questa maniera, il tastierino, i contatti che io non sono andato a sincronizzare ma qualora consentiste al dispositivo di sincronizzare i contatti ve li ritroverete tutti quanti. Storia ovviamente fa riferimento alle chiamate che sono andate ad effettuare e le impostazioni, ecco qui, per poter poi andare ad impostare un'auto risposta e così via. Torniamo un attimo alla home, abbiamo l'app musica, la vado a mettere e vedete si va a collegare in Bluetooth al dispositivo, per esempio vado ad avviare Amazon Music così da andare a testare anche lo speaker del nostro dispositivo. Vado a mettere una canzone, guardate intanto mi vede proprio il titolo della canzone, posso andare a mettere in play, pausa anche da qui e tutto quanto funziona ma non sentite l'audio, perché? Perché vi dovrete ricordare qualora voleste utilizzare l'altoparlante interno di tornare alla home ovviamente, di andare in audio output e di selezionare altoparlante. Tornate nuovamente all'applicazione, eccola qui, se adesso vado a mettere in play volume massimo ok, non vado oltre anche per il copyright, comunque avete sentito anche il volume del dispositivo. Ovviamente qui c'è il lettore della carta, della micro SD, mentre qui abbiamo le impostazioni che sono davvero scarne, linguaggio italiano, traduzione in italiano insomma non proprio perfetta. Tempo, andiamola ad aprire e qui posso andare a impostare la data e l'ora ovviamente. Guida giusta, in realtà è in inglese che vuol dire drive right, quando avete il volante sulla destra, ripristina impostazioni di fabbrica, versione del sistema. Link telefonico, qui abbiamo tutte quante le applicazioni che devono aprirsi nel momento in cui colleghiamo il nostro smartphone anche con il cavo. Impostazioni del wifi. Attenzione, lui non si connette al wifi di un router portatile, per esempio di un modem portatile o all'hotspot del cellulare, bensì il contrario. Attiviamo il wifi per poter far funzionare in wifi, carplay o android auto. Bluetooth, gestione del bluetooth ovviamente e poi guidando abbiamo, vedete, avvertimento video, specchio della fotocamera posteriore, significa che qualora collegassimo la fotocamera posteriore, magari potremmo andare ad effettuare il mirroring dell'immagine, cioè riprodurla al contrario. Park line, qualora attivassimo la retromarcia, ecco che si attiva ovviamente la retrocamera e andremo a vedere anche le linee di parcheggio e poi possiamo andare ad impostare anche le linee di parcheggio che vedete vi compaiono proprio in questa maniera. Perfetto, non dico oltre su questo dispositivo, penso di aver già detto tutto, comunque sia pratico, semplice nell'utilizzo, lo mettete lì sulla plancia e lui fa tutto quanto, nel senso che non avrete bisogno di cablaggi, basta attaccarlo alla presa accendisigari e va che è una meraviglia. Mi è piaciuto il fatto che sia dotato anche di uno speaker interno, anche se sostanzialmente serve a poco perché dovrete comunque collegarlo in bluetooth all'infotainment della vostra vettura o quantomeno con attacco AUX, con cavo AUX per farlo funzionare. Certamente è un po' risicata la scelta della radio, cioè di farla funzionare in sintonia con quella interna alla vostra vettura, non è stand alone ma avrebbe significato anche andare a mettere un'antenna esterna e insomma sulla plancia, ecco, troppi cavi, danno sempre un po' fastidio. Comunque un sistema certamente non perfetto, qualche piccola pecca, anche la gestione degli altoparlanti, uscire, rientrare per andarla a cambiare, non c'è un pulsantino diretto per poterlo fare all'interno dell'app, comunque a parte queste piccole cose, già il fatto che lui funzioni pure con una retrocamera, beh, lo rendono un dispositivo sicuramente consigliato. Certamente a mio avviso il prezzo è un po' elevato per quello che offre, un centinaio di euro in meno ci sarebbero sicuramente state, comunque sia un prodotto da valutare. Torno a dire, vi lascio qui sotto i link in descrizione. Per questo video è tutto, ci salutiamo, mi raccomando se vi è piaciuto lasciate un like, seguitemi anche su Instagram per tanti tanti aggiornamenti, ma link tutti quanti qui sotto in descrizione. Ciao e a un prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti.